Da giornalista ho scoperto tante emergenze sociali, ora lo sto facendo anche da consigliere comunale. Mi trovo qui a Taranto, nella borgata di Talsano, piazza Sovito IV Civico 13 e la segnalazione riguarda le condizioni in cui vive una famiglia, condizioni davvero pietose. Vedete dalle immagini in cui si trova questo appartamento che è più una catapecchia senza offesa a questo appartamento e questa famiglia si è rivolta al comune di Taranto per chiedere un alloggio di edilizia popolare, una casa popolare. Parliamo di persone che uno dei due componenti del nucleo percepisce 480 euro di pensione, la signora percepisce una pensione di validità sui 250 euro, quindi ci sono tutti gli estremi per chiedere di godere di un'abitazione, di una casa popolare. Signora, penso che le immagini parlino da sé, come si vive. Parliamo proprio delle vostre difficoltà, ecco la vostra giornata, come si divide in uno spazio estremamente angusto, disagiato. Sto come, lo stesso che sto in carcere, come si dice, agli arresti omiciliari, specialmente con questo caldo sto crepando in questa casa, non ho una presa d'aria, non ho, come devo fare? Il bagno dov'è? Giù? Giù, giù, in giardino. Quindi siete costretti da casa scendere e andare? Sì, sì. Si diceva anche che vi arrangiate con un secco, con un vaso. Quello è tutto. Voi avete fatto domanda al comune, siete in attesa. Ho fatto domanda al comune per avere la casa popolare, la provvisore è uscita, la definitiva stiamo aspettando. Quindi io faccio appello all'assessore al patrimonio, al sindaco, all'assessore al patrimonio, al sindaco e all'emiliano. Emiliano non c'entra, qui stiamo parlando dell'amministrazione comunale, al limite ci si rivolge anche all'ex IACP, all'ARCA, però non è possibile che nel 2022 si debba vivere in queste condizioni considerando anche i redditi bassissimi di cui disponete. È logico, non possiamo vivere perché o pago la casa, o pago la luce, o pago la bombola, o mi curo, che io sono sofferente, o mangio. Quelli sono i soldi che percepiamo. Non è che percepisco 2.000 euro al mese. Era buono per me se percepivo. Anzi, sono andata a Via Veneto e mi hanno detto, le assiste sociali mi hanno detto, trovatevi poi la casa, cominciate a pagare voi la caparra, cominciate a pagare il mensile di affitto e poi dopo di che vi aiutiamo. Io non posso permettermi di trovarmi una casa quando poi loro si rifiutano di pagarmela. Certo, voi dite giustamente. Ho paura, io ho paura, perché tanto vale rimango qua. Vabbè, poi parleremo direttamente con l'ufficio, con il settore servizi sociali, andremo insieme, non è quello il problema, anzi. Però ecco io l'appello che faccio è dico mettetevi un attimino nelle condizioni di questa famiglia, non è possibile. Cioè un aiuto l'ente comune ha il dovere di darlo, di fornirlo. Non si può vivere in queste condizioni. C'è un'emergenza di natura igienico-sanitaria, c'è un'emergenza proprio di vita, perché con quelle cifre non si... Non si permette, il 10 settembre adesso sono venute l'ufficiale giudiziale e l'avvocato controparte e hanno detto vedete ti provvedere perché la prossima volta vi cacceremo fuori per forza o con i carabinieri o con la questura. E sarebbe il 10 settembre. E loro l'assessorato lo sanno, anche l'assessorato lo sa, che il 10 settembre è lo spratto definitivo. Signore è una battaglia che porteremo avanti. Non ce la faccio più, da 2014 che sto lottando, fatevi il conto, siamo a 2022, quanti anni sono? Che sto lottando per avere una casa. Niente di meno stava l'assessore Scassamacchia. Nei tempi di Stefano. Quando ho cominciato a cercare una casa. Niente, non mi vogliono aiutare. Non chiedo un tesoro, io chiedo solamente una casa, anche come questa qua. L'importante è che ho l'acqua e il bagno, perché il mio compagno non ce la fa più di andare a riempire l'acqua. Non mi posso lavare, perché l'acqua che consumiamo la dobbiamo andare a riempire. I panni, a posto di lavare due volte a settimana, la lavo una volta ogni due mesi, perché si consuma l'acqua. Non ce la faccio più, sto uscendo a passa proprio, sto impazzendo. C'ho 60 anni, non c'ho più 10 anni, 60 anni tengo. Luce è una 67, quindi... Niente, non c'ho più bath cD Niente, non c'ho più Harvard